Rosso per la Fiermonte Box Iambicelli Il suo avversario all'angolo blu per la Fortinudo Trevisanello Un applauso spontaneo da parte della platea Atleti al centro Atleti, dai, ti raccomando, colpisce oltrezza È la prima ripresa Sinistro, sinistro 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 Federico Federico Sinistro 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 Calma Calma Federico 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 fine prima ripresa è possibile anche eventualmente fare un piccolo applauso a questi ragazzi ricordiamo che non è essere tutti in un torneo amatoriale quindi un po' di incoraggiamento è la seconda ripresa a 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 fine seconda ripresa grazie è la terza ed ultima ripresa è la terza ed ultima ripresa con potenza agli angoli per favore con potenza agli angoli per favore a no bravo 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 Sinistri, Lorenzo, per favore. Sinistri. Sinistri. Bravo, bravo. Dai, erano l'automobile. Di posto. 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 Polizia. È vinto, Lorenzo, è vinto. Anche che è... E' sbagliato. Carretto. Disbracciato. È la fine dell'incontro. Un bel applauso. Bravo, Giganò. Atleti al centro. Tutti all'angolo rosso, Gianni Celli. Un bel applauso anche a Federico Trevisarello per la prima volta sul RIG. Bravo. 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 Grazie.